Ciao a tutti ragazzi siamo qui su Assassin's Creed Unity, io sono Negromante e adesso andiamo a fare questa qua La fucca, non so perché dobbiamo scappare da Nadson anche perché l'abbiamo già fatto Forse dobbiamo aiutare Liz che ha preso il grano Perché il grano è importante E il grano si fa il pane col grano E poi col pane si mangia, sono un genio lo so Ma cosa... Non c'è tempo, corri Ehm, non farti beccare ha detto eh Ci alzeremo in volo questa sera professore No no no, temo di no Questi vecchi modelli sono alla totale mercè dei venti E oggi temo che ce ne sia davvero troppo per rischiare Ora questo modello in particolare Cosa credete di fare? Uncite immediatamente da lì! Toglia le funi, ti compro io! Oh cielo! Prosto! Perché questo fischietta va tranquillo? Oh! 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 Schiappiamo in mongolfiera Team Piroi con di me che si può guidare Ancora uno Arnaud! Arrivo subito! Ferma! Provo a resistere! Su serio? Tu sei malato? È davvero bello da quassù Vedrai che panorama Ma non mi dire! Ma tu sei serio? Il vento aumenta! Ti devi sbrigare! Lo so grazie L'avevo capito Eh appunto Che figata Per caso hai pensato a come faremo a tornare a terra? Oh queste faccende si risolvono da sole Eccolo là! Sì proprio così no? Ehi! I detti stanno quasi per finire! Spero tu abbia un piano! Guarda come mi schianto bene nel fiume Potrebbe esserlo! Lasciali stare e corri! Un fiume C'è un fiume Un fulmine! Sì ma è impossibile riuscire a riprenderla Non la fanno scoppiare Quanto scommettete Io ormai ho perso il percorso parkour Perché ormai sto facendo tutto di mio Forse l'ho ritrovato Che poi hanno messo i montacarichi ovunque Ho capito Elise! Ma cosa diavolo? Un cesto volante è bizzarro Ma sei imbecile però eh È bizzarro Guarda che quello che è sopra sta sparando E c'è uno con una spada che lo sta inseguendo Come? Ehi E' questa E' questa E' qui che devo Ti prego dimmi che è qui È lui! Che è successo? Sì Ce la facciamo Ce la facciamo Troppo figo che continuiamo a correre Vedendomi la fune ogni 5 secondi vicino Vai vai Arnaud vai Che figo Sì sto bene grazie Tutto bene Ti prego dimmi che non devo Dimmi che non devo schivare gli edifici Ti prego Ok bene Sarebbe stata una cosa impossibile Come faccio adesso? Sto bene Ancora Fermi 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 ho tutto il tempo del mondo di raccontare? eh vabbè non me ne frega io voglio sapere Salyar no 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 ancora ma quanta gente c'è che ci sta sparando? quante volte hai detto mirate? non mi sembra proprio il momento basta con le frasi scriptate siamo quasi al fiume presto ci sono ci sono ci sono ci sono se ralentifichissimo eh no però ok bravo ce l'abbiamo fatta in futuro alla hug ci penso io seguendo quello che fa Trevor no a caso è bellissimo da quassù non si direbbe proprio che la Francia stia andando in pezzi le le cose torneranno mai come erano prima secondo te e per te dopo quello che è successo e ciò che abbiamo perso quindi è finita il corso della storia è cambiato non si torna indietro non si torna indietro ma andare avanti non significa farla finita Elisa io questo sono io che applauso tranquillo hai parato sei così lento ti amo come scendete fine sequenza secondo me ci starebbe bene ricordo completato bello 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 mi è piaciuto sto livello forse uno dei miei preferiti era anche fatto bene sinceramente mo che se fa non se sa morete a German sempre e comunque eccoci come hanno fatto non si sa ero di fretta dormivi così bene non potevo svegliarti ti amo Elisa qualcuno verrà a prenderla sicuramente sicuramente oppure te la tieni ok rieccoci qui non che prima non c'eravamo però trofeo verso l'indie genza che succede? ancora? oddio cos'è sta voce ci sono un sacco di interferenze oggi non mi piace ok un altro potenziamento e poi mi disconnetto ti mando subito i dati è una bandana potenziata per il di ferro gas allora finalmente abbiamo fatto e con furtività siamo a posto tranne per questo che non so se ah lo condividere l'occhio dell'acqua poi salute eh no non c'è posso furtività sempre questo distanza è una bandana che promette di sparare due volte senza ricaricare o lanciare ok ok interessante boh questo è che la stessa non solo mi interessa beh neanche corpo a corpo ah questo mi piace posso prenderlo? no aspettiamo per prendere quello della salute ok sei molto vicino ora non mollare non siamo riusciti a scoprire data il luogo della morte di Germain quindi dovrai pensarci tu a dopo ecco eh ma io l'avrei atterrato eh ecco ok allora mission di mission di mission di mission facciamo missioni così facciamo prima ecco qua dammi la cosa che ho fatto ah intanto mi dice che lo scrigno è pieno perchè io sono sempre starlicone ah dobbiamo andare qui scopri cosa sai eh per il tier speriamo sia l'ultimo siamo in sequenza 10 viaggio rapido eccolo qua uno più vicino no quella là e il fabbini un fabbini qua non c'è uno più vicino no sempre quello voglio sapere un attimo cos'è questo ah è la frattura quella là che va in un altro tempo ah mi agi rapidi vuol dire che posso chiudere qui e ci rivediamo nel prossimo episodio con la missione quindi al prossimo video grazie